Il presidente di Union Camere Calabria Antonino Tramontana ha incontrato in cittadella regionale l'assessore regionale allo sviluppo economico Rosario Varì e il dirigente del dipartimento Fortunato Varone. A darle notizia un comunicato di Union Camere Calabria. Sono state tracciate le linee di convergenza sui temi del sostegno alle imprese per le quali intensificare la collaborazione interistituzionale e definire un programma di azioni da mettere in campo per sostenere e favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico regionale. Gli effetti della pandemia, sottolineato il presidente Tramontana, sono stati dirompenti per le economie italiane, nello specifico per quella calabrese, causando una drastica riduzione del PIL e registrando l'aumento sostanziale delle percentuali di disoccupazione. Lo sforzo e l'impegno con cui il sistema camerale calabrese è chiamato è quello di utilizzare le risorse del PNRR, realizzando azioni concrete e strutturate a beneficio delle imprese e del territorio per farlo è fondamentale. intensificare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni e con le forze sociali ed economiche, come già sta avvenendo in altre regioni tramite accordi quadro con le unioni regionali delle camere di commercio e prevedendo anche il finanziamento di programmi e progetti condivisi tra la regione per promuovere lo sviluppo socio-economico e sostenere l'occupazione. Varie al lavoro proprio per supportare le imprese presenti sul territorio, anche per l'internalizzazione sia per attrarre nuovi investimenti. Nell'ambito dell'attività di programma 2021-2027 la regione sta ascoltando tutti gli attori del territorio e quindi anche le camere di commercio e Union Camere che possono contribuire a indicarci quelle che sono le esigenze del mondo imprenditoriale calabrese.